Mio padre pagava il pizzo a un gruppo d'albanesi. A un certo punto abbiamo smesso di pagare e lì è arrivato il vero momento delle minacce. Credo che mio padre abbia pagato sicuramente per un anno e ancora deve pagare le banche per i mutui che si è fatto. Iniziamo da questa storia e da questo luogo, a Isola del Piano, nella provincia di Pesaro e Urbino. Questo che vedete alle mie spalle è un casolare confiscato nel 2006 ad una famiglia legata alla criminalità organizzata. Non stiamo parlando né di Campania né di Sud Italia, bensì del centro della penisola, di una di quelle terre considerate isole felici che però di Dilliaco hanno rimasto ben poco. Nel 2010 le Marche mi sembravano una delle regioni meno interessate ai fenomeni mafiosi. Da allora io ho notato un sicuro peggioramento della situazione marchigiana con una presenza sicuramente più diffusa e più forte. In particolare c'è un'attività di spaccio soprattutto nelle zone del litorale marchigiano che ha ormai caratteri di organizzazione. A gestire questo mercato floridissimo è principalmente l'Andrangheta che come una multinazionale ha in mano un settore estremamente strategico. Un secondo settore di intervento della criminalità organizzata è quello del traffico di esseri umani finalizzato allo sfruttamento della prostituzione. Ci sono stati già processi con danni anche di un certo peso. Nella provincia di Ancona la prostituzione è su strada. Rispetto agli anni 90 è molto molto calata. Mentre nella provincia di Pesaro Urbino la prostituzione avviene totalmente in appartamento. Abbiamo soprattutto nigeriane e rumene e poi abbiamo tutta la fetta transgender brasiliana e colombiana. Aumenta la prostituzione italiana di cui ancora non conosciamo l'organizzazione. La criminalità organizzata ha sicuramente varie facce. Abbiamo la maschera violenta vista in Campania, in Calabria e in Sicilia. Un'altra maschera, quella più sorridente, che si presenta quando capisce che un'attività commerciale è in difficoltà e si presenta con la possibilità di tendere una mano, di effettuare un finanziamento. In un momento di crisi così forte che colpisce praticamente la piccola e media impresa che è il tessuto imprenditoriale delle marche e in cui le banche hanno chiuso completamente i rubinetti, molti si sono trovati con la cosiddetta acqua alla gola. È la situazione ideale per le mafie. Perché loro non hanno bisogno di guadagnare, non hanno bisogno di rinvestire, non sanno veramente dove metterseli. La fotografia che emerge, quindi, è quella di un territorio da occupare e su cui fare affari, non solo attraverso le attività di spaccio, contrabbando e traffico della prostituzione, ma anche con le infiltrazioni nel tessuto economico e commerciale. Siamo ancora qui a Isola del Piano, alla fattoria della legalità. Con noi c'è il sindaco di Isola del Piano, Giuseppe Paolini, che ha seguito fin dall'inizio il processo per riportare questa struttura alla legalità e alla collettività. Noi pensavamo qui di farci subito delle attività coinvolgendo tutta la gente, cioè non può vivere solo ed esclusivamente con denaro pubblico, perché se no è una sconfitta. Ci sono progetti, ma noi dobbiamo trasmettere ai giovani la speranza, un sogno e, come diceva Caponnetto, di queste cose dobbiamo parlarne nelle scuole, dobbiamo parlarne tutti i giorni, dobbiamo fare in modo che non ci sia un'età in cui inizi a parlarne.